Allora, grazie intanto a Cinzia Franchini di essere qua a TG2 insieme, autotrasportatrice, ma anche presidente dell'associazione di categoria, quindi FITA, CNA FITA. FITA sta per Federazione Italiana, Trasportatori e Artigiani Aderenti alla CNA. CNA. Esatto, buongiorno, grazie di essere qua. Però poi c'è stato un altro gesto emblematico, che è stato quello dei poliziotti, abbiamo visto che a un certo punto si sono alcuni tolti il casco. Allora, per questo noi abbiamo Felice Romano, grazie di essere a TG2 insieme, segretario generale SIULP, ovvero sindacato dell'Unitario Lavoratori Polizia. Buongiorno. E poi invece abbiamo a Torino il nostro inviato Giampiero Scarpatti, che spero di vederlo, vediamo un po' se è con noi. Giampiero, ci sei? Buongiorno, sì, siamo qui. Ciao, buongiorno. Hai con te degli ospiti, se non sbaglio, ce li vuoi presentare? Sì, con me c'è Andrea Chillemi del coordinamento 9 dicembre, che è un po' il movimento che qui a Torino ha animato le manifestazioni. Però invece Cinzia Franchini, appunto, autotrasportatrice, lei si è in qualche modo appreso le distanze dal cosiddetto movimento dei Forconi, e però ha ricevuto delle minacce su questo. Tra l'altro avete pensato che non si tratta di minacce, appunto perché è stato ricevuto, mi pare, un proiettile all'interno della vostra sede della FITA, no? Se non sbaglio? No, questo è accaduto l'anno scorso in occasione della prima protesta dei Forconi. Ora, nei giorni scorsi, abbiamo ricevuto, sabato, presso un consorzio di autotrasportatori di Agrigento, una lettera con gravi minacce rivolte a me e rivolte al presidente Salvatore Puleri della FITA di Agrigento, e di nuovo, purtroppo, l'altro giorno è arrivata un'altra lettera, ancora con minacce, se possibile, ancora più brutte, e la cosa veramente sgradevole è che questi volantini, alla fine, inneggiano alla mafia. Viva la mafia, viva i Forconi. Beh, questo era poi uno slogan che, appunto, la prima manifestazione dei Forconi in Sicilia, proprio portava questo slogan, tant'è che ci sono anche lì delle critiche, insomma. Giustamente Andrea dice non siamo tutti uguali ed è corretto. Io però gradirei molto da parte dei Forconi che, come dire, si prendessero le distanze, no? Da certi fatti che accadono, che sono molto gravi, e io credo che inneggiare la mafia sia sempre un fatto gravissimo. Ecco, allora lei, Cinzia, mi scusi, poi torniamo ovviamente da lei. Voglio sentire Andrea, perché ha sentito Andrea, quello che stava appena dicendo Cinzia? Intervengo un attimo io e adesso lo chiediamo a Andrea. In realtà loro comunque hanno preso le distanze da questi atti di violenza. È vero, Andrea, nei giorni scorsi è successo più volte, ci sono state queste intimidazioni ai negozianti, però i membri del coordinamento 9 dicembre hanno sempre preso le distanze da questi atti. Assolutamente sì. Noi non siamo scesi per protestare contro i negozianti. Noi siamo coi negozianti e noi siamo i negozianti, siamo gli ambulanti, siamo diverse categorie. Non ci vogliamo danneggiare a vicenda. Assolutamente. Il punto critico però, dove un po' siete un po' criticati, è sulle richieste. Le richieste spesso appaiono un po' generiche. Si parla di dimissione del governo, lavoro per tutti, insomma. Lì non c'è una piattaforma di richieste precise. Io voglio andare immediatamente da Cinzia Franchini, perché intanto vedevo che scuoteva la testa, però in effetti bisogna dire che se facciamo un passo indietro, andiamo appunto alla Sicilia, quando nasce il movimento dei Forconi, c'era un grande malcontento proprio nei riguardi anche delle accise sulle carburanti, piuttosto che il peso delle tasse, che grava fortemente sugli autotrasporti. Allora io mi chiedo, lei in qualità di rappresentante di categoria, perché a un certo punto invece si è staccata, si è dissociata dal movimento dei Forconi? Iniziamo intanto col dire che si sono dissociate la stragrande maggioranza dell'associazione di categoria, che rappresentano circa il 95% degli autotrasportatori. Detto questo, certamente i problemi degli autotrasportatori sono importanti e sono pesanti. È una categoria che sta soffrendo da anni e ha bisogno dalla politica di risposte immediate e concrete. Io però credo che queste risposte vadano ricercate nel dialogo con il governo. C'è un tavolo di confronto aperto, abbiamo già ricevuto delle risposte concrete su alcuni problemi posti e quindi io credo che quella sia la strada da perseguire. Oltretutto, come il filmato ci ricordava, questa è una protesta che va anche contro i sindacati, dicono, quindi contro anche le associazioni di rappresentanza. E io invece vorrei ricordare che quelle associazioni minoritarie che stanno protestando per quello che riguarda il mondo che io rappresento sono comunque sindacalisti di lungo corso, sono professionisti del fermo, persone che hanno guidato questa categoria negli ultimi 15 anni. Perché avete preso le distanze? Qual è il punto fondamentale per cui a un certo punto avete detto noi non vogliamo far parte del movimento dei forconi? Perché il fermo era stato proclamato a causa di un taglio importante sulle risorse destinate al mondo dell'autotrastorto previsto nella legge di stabilità. Queste risorse sono state ripristinate e pertanto coerentemente abbiamo revocato il fermo. Per tutto il resto, per tutti i problemi che rimangono, noi preferiamo dialogare piuttosto che scendere in piazza, creare disagi a tutto, a tutto il mondo. E oltretutto, devo dire, anche il mondo dell'autotrasporto non ci esce benissimo dall'essere accomunato ai forconi, ai rivoluzionari, di agente chiusa la violenza.